Nel segno di un nuovo umanesimo presentati a Campobasso i candidati alla Camera e al Senato del Partito Valori Umano che da alcuni mesi si impegna attivamente per costruire un mondo migliore. Nell'occasione Massimo Dallatorre ha intervistato Elia Rubino, uno dei candidati. Sentiamo. Elia Rubino, una nuova formazione politica impremontata essenzialmente a quelli che sono gli insegnamenti umani. Quindi leggevo siete nati ad Assisi. Bene, hai colto proprio nel segno. Siamo nati ad Assisi. Anche per me è stato un segno questo. Assisi, terra di pace e di dialogo. Assisi che ha ospitato tantissimi incontri interreligiosi, quelli di Giovanni Paolo II e quelli di Benedetto XVI. Assisi ha ospitato la nascita di questo partito che però ha due anni di storia. È un partito che nasce da un movimento, un movimento per un mondo migliore. Noi crediamo che si possa avere un mondo migliore partendo dalla coscienza e dall'etica. Due pilastri della persona umana che non vanno dimenticati. E in questa tornata elettorale ci siamo messi in gioco proprio per questo. Ci rimettiamo la faccia perché siamo cittadini comuni che però sono stanchi di vivere una vita inquieta, incerta e insicura. E vogliamo sperare in un nuovo umanesimo. E infatti il tuo slogan è per chi ha un cuore un nuovo umanesimo. Qualcuno potrebbe dire ma politica ed etica e morale come quella vostra non fanno a botte? Beh, è proprio questa la sfida. Noi cerchiamo di trasmettere un messaggio nuovo. Chi fa politica deve innanzitutto avere una formazione etica. Io penso che non potrei dormire sereno la notte se tutto quello che mi viene dato resta a me. Quello che mi viene dato deve essere redistribuito. Partiamo proprio da questo, una redistribuzione equa e dignitaria per tutti. Potrebbe essere un'utopia, però come tutte le utopie possono diventare eutopie, cioè qualcosa che si realizzerà.